Scusate ma io non ho più l'età per fare queste cose, scusatemi, ve lo devo dire perché veramente sono stanchissima, non posso, capito, non posso ballare così tanto, mi fa male la schiena, non ce la faccio, guardate, mica sono come Marzia e Maria Teresa che hanno molti anni più di me, però vabbè loro si adattano lo stesso e cantano oggi una canzone che ha avuto un gran successo E' inutile dirlo, è vero, non sto qui a dirlo perché anche qui da noi ha avuto un successo, hanno mandato lettere, telegrammi, carciofi, carciofi rossi, guardate, delicati, proprio una cosa da cucinare subito, buoni ecco, bene perché Marzia e Maria Teresa hanno cantato No More Tears, vero? Che significa basta con le lacrime, giusto? Oppure che poi è diventato anche l'inno ufficiale dei lasciati o delle lasciate, vero? Dai ragazzi, eh? Perché in altre parole noi abbiamo tradotto con una frase molto più brutale che è Morto un papa, se ne fa un altro, Marzia e Maria Teresa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti